Vengono resi gli onori al prefetto della provincia di Catanzaro, rappresentante del governo, accompagnato dal comandante della legione Carabinieri Calabria. Alza bandiera! Vengono resi gli onori al prefetto della provincia di Catanzaro, rappresentante del governo, accompagnato dal comandante della legione Carabinieri Calabria. Vengono resi gli onori al prefetto della legione Carabinieri Calabria. Vengono resi gli onori al prefetto della legione Carabinieri Calabria. Vengono resi gli onori al prefetto della legione Carabinieri Calabria. Forze Armate, uno straordinario quotidiano.